Overtime, la vita oltre il calcio. A Salerno spazio al racconto delle emozioni pulite che un pallone, da sempre, suscita nel cuore di grandi e bambini. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha guidato la platea tra le tante storie raccontate, insieme agli altri componenti della nutrita squadra di Overtime. I giornalisti Matteo Marani e Tiziano Marelli, il regista Paolo Geremei, gli scrittori Elisabetta Bucciarelli e Marco Marsullo e ovviamente Nicola Provenza, Deus ex macchina dell'evento che ha avuto il suo clou nel galà del Grand Hotel Salerno. Al centro della serata il concorso Il Calcio con i tuoi occhi riservato agli studenti, pronti a narrare le loro storie in cui il pallone rotola sullo sfondo di vicende varie di vita quotidiana. Due le sezioni. Tra i racconti brevi il premio intitolato alla memoria del prof giornalista Zaccaria Tartarone è andato a Paolo Barrasso, studente universitario autore dell'Ancora, storia di calcio, immigrazione e integrazione. Sul podio anche Annalisa Damiano con una storia sul pallone in rosa e il piccolo Andrea Perna con la sua vicenda autobiografica tra la scuola calcio, una squadra vincente ma senza anima e un gruppo di atleti uniti da un fortissimo legame cresciuto al di là delle sconfitte in campo. Nella sezione cortometraggi il premio dedicato al giovane Gianfranco Torre è andato a un gruppo di ragazzi di nocera con la signora crostata, la storia vera di una lunga passione per la nocerina esternata dalla signora Rosaria Pappalardo sfornando centinaia di crostate regalate alla squadra rossonera in 40 anni. E poi premi ai calciatori, a Maurizio Lanzaro difensore della Salernitana in campo il giorno dopo la scomparsa di suo padre proprio per obbedire all'ultimo desiderio del papà. Ad Enrico Marcucci, simbolo di fair play nella finale di Coppa Italia di Lettanti 2014 con la sua Virtus Scafatese. Ai fratelli Daniel e Matteo Ciofani, protagonisti della favola Frosinone in Serie A. Ad Alessandro Florenzi, assente perché in campo nel derby capitolino e premiato per l'ormai famoso abbraccio alla nonna dopo il gol realizzato a settembre contro il Cagliari. A condire il tutto il monologo teatrale di Sergio Mari, ex calciatore divenuto scrittore e attore di teatro che ha raccontato gli insegnamenti di Nicola Gregorio, Don Nicola per tutti, il suo allenatore ai tempi di quella scuola calcio vietriraito che allevò piccoletti terribili come lui stesso, come Ciccio della Monica, Nano Galderisi e Marco Pecoraro. Applausi ed emozioni con la promessa finale di Nicola Provenza di aprire i confini di overtime spalmandoli durante tutto il corso dell'anno, con continue attività che possano finalmente dare una ripulita a un pallone troppo sperso ricoperto di fango.